Ciao amici di Super Basket, coach Andrea Trinchieri ha colpito nel segno. Far giocare bambini con bambini resteranno sempre bambini. È una frase che dovrebbe essere scolpita nella pietra, è un po' la chiave di tutta una filosofia che purtroppo in Italia è cavalcata a piene mani al motto di non bruciamo i nostri ragazzi. Purtroppo però noto che questa larghezza di vedute, queste illuminate considerazioni nascono quasi sempre da, dopo che addetti ai lavori italiani, nostrani, hanno condiviso determinate esperienze all'estero, come che fossero usciti da una sorta di campana di vetro vattata che è l'Italia. Finché non cambiamo la mentalità del protezionismo italiano, finché continueremo ad accompagnare i nostri ragazzi con quella bicicletta e le ruotine di sostegno non impareranno mai a cadere e mai a rialzarsi, quindi non diventeranno mai uomini. E lo dico anche verso tutti quei procuratori che improvvidamente fingono di fare gli interessi dei propri esistiti, dei giovani, sgumberanno la strada da ostacoli che possono essere invece maledettamente utili alla loro crescita. Così come, in ultima battuta, rivolgo il pensiero a quei presidenti che mettono sulla graticola gli allenatori dopo due sconfitte di fila. Mi spiegate come cacchio può un allenatore gettare nella mischia un ragazzo giovane italiano, sedendo poi sulla braccia di una panchina che scotta e che potrebbe togliergli il lavoro. La strada prospettata da Cremona è secondo me quella giusta. Condivisione del progetto, società, allenatore, dirigenti e rischi preventivati per aprire un nuovo fronte. chissà, forse anche un cambio di mentalità. Grazie da Raffaele Baldini.